Ari eccoci qui da dove seramo fermati nel prossimo, nel precedente video gameplay E il meno arancione vi saluta, benvenuti in me molto altro, andiamo Tanto bella Agon, io vado a cercare Allora voglio fare qualche missioncina stavolta veramente Non come il precedente gameplay che poi dopo ho detto di no e invece volevo farle Voglio fare questa Voglio andare a fini qua, vede che succede Allora, io la fama salta da là, no Devo andare, devo fare missioncine Salta sui tetti, spute vecchietti, quanto è bello D'Artagnan, D'Artagnan Ok, devo andare al luogo sconosciuto Là dentro però devo stare attenti che ci stanno gli zombie Allora Fiamo una bella cosa, fammo così Così Attività notturno, negozio abbandonato Ok, fammo così Mamma mia come stiamo a far bene sto gameplay oggi Mo se succede qualche cosa ha colpato a me stesso Ariscimo, ariscimo, ariscimo N'è successo niente E' presente quando vi prendono gli infarti? Eccoli Vabbè, ormai siamo entrati Ti levi signora, io devo entrare Devo fare il gameplay Mi sa che qua ci rimango un'altra volta Buonasera a tutti Mi sa che non è l'ideale quello che ho fatto Se non c'ho un appiglio dove andà Ebbè Incredibile Allora Però io ci voglio andarla Perché non ci dovrei andà Tanto non sono andato a finire qua Cioè, posti che ne manco io che ho mai visto Ok, questa è la metro Ok E' bella sta cosa che ti respanfano Oddio, pensavo che erano zombie a scopa Ormai sto proprio in un mondo A me Allora Mo se devo fare tutta la trafila per scendere qua Però è Ah no, è giorno Pensavo che era buio No, io però là dentro ci devo andrà Non c'è niente da fare E poi è qui, eh Io ci voglio andare che no là dentro Però non so come va Che modestamente era pieno di roba De infetti Però io voglio andarci Voglio riprovarci Eh, calla Mo ci riprovo proprio col cavolo Vai, vai qua dentro Però se io entrassi qua Eh vabbè, però è impossibile così Mamma mia Guarda che casino qua Niente Eh qua Fine del mondo Riusciamo, riusciamo Non ce la faremo mai Averci i pistoli Roba così Sarebbe stata Una cosa da fare Una cosa da fare Via, 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 via Via, via Via di qua Via di qua Ok, sopra Monnezza Andiamo in un altro luogo Che possiamo vedere Che possiamo fare meglio Allora, quella è andata male Proviamo di qua Riproviamo di qua Allora, rampichiamo Se qui Se gli avviamo Raggrappate Giava Niente Scusi Io le salto addosso Allora Andiamo di qua Andiamo di qua Mi sento fortunato Stavolta Ah, qua c'è stanno I vecchi pali Quelli per ammazzarli Allora, andiamo sopra E qua Vai, 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 vai Vai che gli avviamo Vai che gli avviamo Vai, vai, vai Ce l'abbiamo fatta 90 metri C'è qualcosa Mamma mia Che brutto salto Che brutto salto Bende Andiamo sopra 64 metri Ci siamo Salta lì Ok Oh no Ok Qua devo stare attenti Però, eh Allora, di qua Di qua Di qua Ok Sfida parkour Cos'è quello? Sono banditi questi? Attenti, eh Ma avete provocato voi Mica io Meno male che so da uno Questi E mi dispiace Per la sua testa Però Che volete? Stracci Vediamo che c'è Doppia mazza Buono Allora, miele 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 Niente più Cos'è questo? Gamba del tavolo Funghi Buoni Mi possono servire Margherite E mo' E mo' De manate qua La sfida Del parkour Allora Vediamo Dice da Sartarla Qual è? Qual è? Ci darà L'indicazione Proviamoci In 20 secondi L'oro In 30 Il bronzo Proviamo Ah, ok Via Vai 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 Non so se ho sbagliato Ma sicuramente Sì Che mi sa Tu prende tutti I checkpoint Qua Per forza Già ho superato Da mo' E mo' Mi fa Il nantellano L'ho fallita Ho capito Ho capito Però come fare Allora Rifacciamola Ripartiamo Ok La prima volta Se sbaglia Se sbaglia La seconda Vediamo Ok Ok Vai Eh però Mi dice qua Mannaggia Ho sbagliato Vai 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 Cori 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 Vai Vai Cori 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 La famo Vai 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 Che abbiamo Fatta Almeno Il bronzo Ce l'abbiamo No Ah Ah no Il bronzo Abbiamo il bronzo Ok Va bene Così io direi Possiamo rifarlo Vediamo se ci riusciamo A fare l'oro Forse sì Forse sì Direi di sì Ok Vai È un po' Difficile Qua Perché L'abbiamo preso Quello Non lo so Vai 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 Non molla Non molla Vai 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 Quasi Quasi L'argento Va bene Va bene Così Non fa niente Il bronzo L'abbiamo preso Ok Andiamo a scoprire Altre cose Altre cose Qui Ah Buono così Namo A 127 metri Se intanto è una cosa Aspetta Aspetta Che qua Troviamo Roba Eh Vediamo se Ce sta Addosso a questo Qualcosa No Vuoto Dentro St'armadietto I pigmenti Sembra Non esserci Nulla Qua Ma cos'è Un lampadario Un glitch Cioè L'ampadario Sospeso Ma cos'è Sta roba C'è pure C'è pure I fili Aia Questa cosa Che Però c'è Dalla roba Qua Visto pure Questo Me ne ero accorto Però questo Il negozio Abbandonato Quello Lato Prima È possibile Cosa c'è Dentro Rottami Ok Vediamo cosa Possiamo fare Perché qua C'è un altro Mostro C'è un altro Zombie Un altro Mostro Un altro Zombie Ok Allora Prendiamo qua Rottami Pigmenti Qua dentro Che c'è Sta rata È bello Una lattina Eh ma Qua C'è Stanno L'artri Eh A forza Da Qua 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 Trovano Cose Questo Può Fa Solo Che Bene Alla Coso Alla Nostra Esperienza Sul Campo Ok Ok La resina Vediamo Qua Cosa C'è I stracci Oh Sti stracci Stanno Dappertutto Eh Allora Vediamo Che si può Fa Una volta Ci siamo Entrati Vediamo Da fare cose Fatte bene No Allora Qua Lattina Tigarette E niente Più Questo Probabilmente Non si Apre No Qua Dentro Manco Me ne So Accorta Cosa C'è Stava Ok Se Vado Giù Piano Vai Vai Mazzalo Ok Abbiamo Fatta Allora Vediamo Che c'è Qualcosa Addosso Niente Vado Eh Però Stiamo A prendere Un sacco Di roba Che Sicuramente Sarà Utile Dopo Allora Vediamo Un po' La situazione Qua Allora C'è Un altro Là E un altro Là Che l'ho Visti Altri Due Sopra Ah Uno Sta qua Madonna Mia Proviamolo Dall'altra Parte Ok Ed è Morto Deconcentrazione Perché Te sbagli Un attimo E' La fine Qua Allora Questo Vabbè Si può Ammazzare Così Non prendeva Il comando Ce ne stiamo Ammazzare Parecchi Eh Ce n'è Un altro Qua Ok Questo Si può Ammazzare Liberamente Così Va bene Va bene Qua ce ne Qua ce ne sta Un altro Ancora Ma quanti ce ne stanno Dentro a sto coso Ok Aspetta Intanto Riciclo Un po' De qua De roba Ho preso Tutta sta roba Che sicuramente Serve poi Già l'ho detto Ok Ok Siamo arrivati Al pieno Qui Ma come Famo Vado E qua Qua cosa C'è Un mattone No Il mattone No Non mi serve Il mattone Però Non ho trovato Roba C'è Si Rottami Si Però Non ho trovato Roba Importante Insomma E questa È una Stranezza Perché Comunque Mi pare Che non c'è Una roba Importante Qua Effettivamente No Si sente Anche Il vento Passare Attraverso Le porte Oddio Mio Il negozio È quello Perché Sempre Quel negozio Là Maledetto Vediamo Di entrarci Qua Forse Gliela Famo Stavolta Forse Gliela Famo Stam Attenti Zitto Eh vabbè Niente Teniamo Fatta Dai forse Gliela Gliela Famo Forse Gliela Famo Stavolta Eh Mi sa De no Via Andiamo De qua Riprendiamo Un po' De questa Vai De qua De qua Riprendiamo Energia Gli apodemo Fa Gli apodemo Fa Gli apodemo Fa Stavolta Stavolta Gli apodemo Fa Ma lo sento Riprendiamo Un po' D'energia Sono tutti Schiettati Wow Oh Stavolta Gli abbiamo Fatta Vediamo Che troviamo Dentro Sti cosi Dimmi Tanta Bella Roba Perché Se no Allora No Non c'ho Più Grimaldelli Allora Aspetta Come si Creavano I Grimaldelli Da qua A Creazione Grimaldelli Come si Faceva Ah ok Ne possiamo Fa Quattro Basteranno Magari Un fucile Una cosa Lo so Che non Ci stanno I fucili Però Chi Ve lo Dice Allora Vamo 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 Qua Cerchiamo Da capire Come Il meccanismo No De qua No Già Due Grimaldelli Fuori Eccolo Eccolo Eh quasi Vai 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 Buono Sei aperto Sei aperto Va bene E che c'è Sta qua Dentro Allora Ossidante Batterie Buono E batterie Buono Ok De qua Pigmenti E Pigmenti Altra roba Altra roba Si che ci sta A parte addosso a loro Ok Tutti i trofei Chissai i trofei a cosa servono Forse più avanti Tipo cacciatore di taglie Tutti questi pigmenti Che non sono ancora riusciti a capire Che servano Però mi fa trovare Nelle zone un po' più difficili Da fare Piume Ok Aia Per fungo Ce l'ho Si Ok ok Se andiamo a sbrigare Oro Ok Cerchiamo tutta la roba Quella che va Presa Ok Mi pare che è finita qua Questo Un istintore No Non serve a nulla Allora qui Resina Ricontrolliamo Un'ultima volta Allora usciamo Così prendiamo il sole E non ci pensiamo più A stare qua dentro Ok Andiamo fuori Ma sopra Non c'è niente No Parete no Ok Usciamo fuori Ok Ho recuperato La cosa Deve non trasformarmi E andiamo a Fare lì La missione Quella principale A questo punto Ok Qua saltiamo Sui cosi State qua Ma questi Vabbè Li ignoro Vai 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 Rampi Che te va Rampi Che te ignora L'ignora L'infa niente Eh però Se loro Mi attaccano Io l'avevo ignorata Amici miei Eh Vabbè Lasci di perdere Andiamo a fare La missione Ok Saltiamo De qua Buono Il container Ah C'è il container Qua vicino E dove 40 38 Anumeria del grey Attività notturna E qua dentro Stanno In zona militare Qua Qua dentro Stanno gli inibitori Oh Aspetta Non famo cavolate Qua Piano Qua Allora Ok Ok La dovremmo Fai Ma lui Sta intanto A questo Qua dentro Cosa c'è De bello Da mangiare I pagioli Il buon scatolo E cavi elettrici Ammazziamo Questi E si Doiamo Ok Buono Così Vediamo La roba Eh Uno strilla Non lo posso Servare Aspetta Io sto qua A ammazzare Questi Mica posso Eh Guarda Quanti ce ne Stanno Qua dentro Ok Ok Nentre i cassetti C'è L'ottima Cose La resina La resina La lattina Lattina E Rottami Buono Questo L'avevo Visto Da prima Vabbè Questo Posso Pure Ammazzare A carci Vabbè Vabbè Famo Così Famo Prima Eh Amico Mio Sei rimasto L'ultimo Che vuoi Allora Prendiamo Qua roba Cavi Allora 42 Cosi Metri No Io volevo Prendere Volevo Prendere Quella Cosa Quella Cassa Ok Semmo Atterati Bene Nel mondo Sta Sta Cassa Ah Proprio Qua Dentro Ok Ho capito Ma allora Ditelo Allora Cerchiamo Da Per forza Qua Eh Non è che Magari Troviamo Roba Tipo Che ne sa Tipo Armi Un po' Più Potenti Stiamo Un coso Militare Molotov Bone E frecce Anche Non abbiamo L'arco Però Abbiamo Le Molotov Queste Ci servono Come Erpane Veramente Eh Ah Questa Prova A strapparla Cos'è qua Ah L'attina E L'arma Ascia Manconcia Eh La Prendiamo Ok Cerchiamo Cerchiamo Di uscire Da qua Dalla parte Un po' Meglio Tanto Questo Che c'ha Addosso Tanto C'ha Sta Fretta Sta Cosa Qua Oh Lancia Lancia Da lancio Guarda qua I morti Che ci Stanno Allora Cerchiamo Da scendere Qua Però Ste lanci Da lancio Mi sembra Alquanto Ok Qua Si può Aprire Non si può Aprire Qua Allora Intanto Prendiamo La medicina Qua Perché Se no Capace Ci stanno I zombie Che appaiono Da un momento All'altro Allora Dobbiamo andare Qua dentro Da quale Parte Non ho Capito Cioè Per Per Aprire Qua Intanto Esploriamo Qua Capire Un po' Di più Allora Intanto La cosa Si allontana Da qua Perciò Sta qui Ma come Lo apro Sta Là Dentro Però Come C'entro Non Non ci fa Ma Entrare Là Dentro È quasi Impossibile Cioè È impossibile Ora Entrare Qua Dentro Perché Chiusa E niente Allora Qui Non c'è Nulla Di che Oltre Che Il container Però Non ci posso Entrare Allora Quindi Usciamo Da qua Da dove Siamo Entrati Probabilmente E Mo Te voglio Che esci Da qua Ok Aspetto però Non avevo Controllato Qua Roba Ce sta Qua Da prende Pelle Molotov Altra Molotov Qui Sempre a Strappà Ok Resina Cancrena Vabbè Usciamo Da qua E Andiamo Nella Direzione Della Missione Possibilmente Qua Era Da uscire Dall'altra Parte Allora Cerchiamo Da fare Una bella Cosa Così Però Qua Si apre Ne so No Non si apre Allora Famo Una cosa Così E Subito De fuga Subito De fuga Versi I tetti Versi I tetti Versi I tetti Senza Pensare Questo Intanto Ok Ok Niente Vai 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 Rampigate Ok Doviamo Arrivare Là 70 Metri Buono No Non voglio Entrare Dentro I palazzi Voglio Arrivare Lì Vai 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 Buono Stiamo a far Benissimo Grappate Mamma Mia Vai 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 Sopra E Vabbè Allora Così Che Insarampica Subito Vai 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 Sopra Condizionatore Piscina Di Qua Riende Ok Tanto Qua Sbagliato Proprio Allora Cerchiamo Da Arrampigasse È Andato Va per forza Quel passaggio Così O se no Lo vedo Da prendere Da qua Vediamo Se ci riesco Anzi Da qua Ok Andiamo Sopra Vai Vai Siamo Arrivati Sul Tetto Ok 36 No 28 Metri Ok Ci siamo Attiva Attiva Il Molino Ok Arriva C'è Il Molino Allora Qui Ah Perché Questo Va Sopra E Quindi Devo Devo Sartarci Sopra Ah E poi Rampicami La Pensate Che Si Sono Venti Eh Non Gli La Potevo Fà Resiste Ok Quindi Mi devo Rampicare E poi Andarla Sopra Ok Hanno Proprio Inventato Bene Sto Murino Ok E poi Mi rampico La Vai Ok Benissimo Attiva Il Molino Mi dice Invece Da parlare Intanto Attivami Il Molino Eh Però Qua C'è Che Scamo Eh Qua Famo Uno Di Quei Botti Bruti Provamo C'è Oh Aspetta Aspetta Non so Come Mi Mi So Retto Non Non Lo So Non Lo So Mamma Mia Ma Perché Vi Inventate Ste Cose Strane Piano 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 Oh Asca Qua Daveri I Zumbi Ci Sargono Mi Direi Come Faccio Scendere Io A parte Beh Ci Stanno A Secchi Della Monnezza Mo Veden Se Pu Attivare Wow Ok Quindi Abbiamo Un posto Di Rifugio Ma Vi Pacificatori Perché Sta Cosa Che Io Dove Trovare Lazaro No Attivare Vabbè E Non È Non è Male Come L'hanno Rifatta Quindi Ho capito Strutture Della Fazione Che Loro Ricostruiscono Ho capito Bella Sta Cosa L'attivazione Di un Mulino A vento Crea Un Rifugio Nell'area Circostante Rappresenta Un posto Ok Un mulino A vento Attivo Permette Le strutture Di abbandonare Le circostanze Di diventare Strutture Della Fazione Queste costruzioni Ospitano I mercanti Nascondono Nuove Missioni Sfide Sono La fonte Luce Ultravioletta Durante La notte La natura Della struttura Della fazione Dipende Da chi Controlla L'area Circostante Ancora Non l'hai Fatto Devi Scegliere Se Se Segnare La struttura La zona Pacificatori Ai sopravvissuti Stava Soppreso I Pacificatori Questa Scelta Determina Il tipo Di Persona E Missioni Che Troverai All'interno Ok Molina A vento Di Quercia Bene Tutto Molto Contento Rifugio Sbloccato Mazza Come hanno Trasformato Bello 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 Incontro Non ho Riuscito Ma Te Prego È Fantastico È Veramente Qualcosa C'è L'hanno Trasformata L'hanno Fatto Proprio Un Accampamento Vero E Proprio Questo Bellissimo E Qua Non 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 Sono Fatto Niente Ma Io Direi Che È Una Cosa Fantastica Questa Che È Appena Accaduta Però Devo Arrivare A Parlare Con Quello Che Sta Lassopra Mom Dovrì Far Tutta La Tra Fila Per Arrivare Lassopra Ah Già Come Se sale Qua Posso Farlo Da Qua No Ok Devo Sali Qua E Qua E Mo Però Questo È Rimasto Così Però Vabbè Ce devo Parla Ah Non è Hubert È Un altro Ok Quindi Dobbiamo Aspetta Tecnicamente Non dove Neanche Essere L'avamposto Dei Pacificatori Però Cos'è Questo Quindi Deve Una Chiapà Ok Eh ma Mo' È Più Complicato Eh Vai 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 Giù 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 Vai 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 Acchiappamo Eh ma Mo' Devo Provo Acchiappare Maledetto Eh Un minuto Dai 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 Devo Sali Sui Tetti Devo Sali Sui Tetti Forza No Non sto Abbandonare La missione Che Ma Che T'ha Detto Che Sto Abbandonare Ma Non L'ho Abbandonata La Missione Ma Dai Dai Vai 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 Fatemi Largo Vai Vai Stavolta Avamo preso Stavolta 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 Sui Tetti Eh Stavolta 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 Lo prendiamo Lo prendiamo Ma Salta Così Eh No Va Va bene, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Vai, 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 non ci siamo fatti niente. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sarta qua, vai. Un po' più di velocità però, eh. Mamma mia, te stiamo a ammazzare. Vai, 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 vai. Arampi che... ma guarda te. Ma... Quanto l'odio sto gioco. Vai, quanto ci vuole. Eh, ho riperso un'altra volta. Dai, forse l'avevamo preso. Ok, questi stanno qua. Buttate di sotto. E' di sotto. Ma che vuoi, te. Ok, uno di meno. Ok, così. Ok, così. C'era l'arma. Allora. 33. 33. Vedete qua, si è nascosto, il maledetto? Cioè, proprio là dentro si è dovuta non nascondere. Ma guarda. Oh, perché? Allora, andiamo sopra. Come? Non lo so, però ci andiamo. Oh, ma che sei matto. Senti, eh. Cenni? Hai rotto un pochettino, eh. Ok, andiamo. Andiamo da qua. Vai sopra. Allora, riproviamo. Non mettiamo an'acqua sopra. Allora. E fa in qualche modo per cercare da arrivare là sopra. Ah, come? Non ho idea. Allora, se era giro da qua. Mamma mia, che brutta situazione. Che brutta situazione. Allora, sembrerebbe che abbia trovato il punto per andarla a chiappare sto maledetto. Vai. E qua, e qua, e qua, e qua, e qua, che c'era un appiglio. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Mannaggia. Allora. Andiamo da qua? Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 abbiamo fatta. Eh, dove stai, stronzone? Eh, ma te scopro, dove stai, eh. Ah, maledetto. Incontro non riuscito. Eh, ho capito, eh. Eccolo il maledetto, ando se nascondeva, d'ho scoperto. Eh, e mo che fai? Non mi fai. Non so niente. Per cosa? Non ho ancora chiesto niente. Non so niente niente, d'ho scoperto. No, eh, perché scappavi? Non lo sai, è Lucas. E quindi chi è ha presa? perché si è scappato vabbè lo sanno tutti maia 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 ok abbiamo scoperto che l'ha preso maia e non hubert all'altro si ok ok quindi abbiamo scoperto che è maia che ha preso questo tirapugni Il Lazarus o Lazaro E Maya sarà quella Che ha fatto Che abbiamo visto nel trailer Può darsi che sia lei Tanto se è fatta notte Io direi di fermarmi qua E se il video vi è piaciuto e sapete quello che deve fare Il main arancione vi saluta e vi aspetta Nei prossimi video con Dying Light 2 Ciao